Eccolo qua. E lui è il fratellino molto spaventato di quell'altra là. Dov'è? Dov'è? Dov'è la sorellina? Eccola là. La sorellina è meno spaventata. Lui ha bisogno di prendere un po' di confidenza. Di a Chiara gli sta facendo la tolettatura. Prima non si alzava proprio ed era rimasto a terra. Adesso piano piano sta prendendo fiducia questo bambolotto. È bellissimo. Non è bello, è bellissimo. Ma ora che sfumature ha. C'ha una zampa che ha un calzino bianco, poi marrone e poi la coscia nera. e invece quell'altra è tutta bianca. Quale? Ah, parla avanti. Devo fare un attimo. Ho le orecchie. L'orecchietto. Mamma mia che begli occhioni. Che c'è che ti stanno facendo? Guarda la sorella come sta bella. Stai riposando. Hai potuto i capelli. Capellona. Che capelli che ci abbiamo. Che stiamo a pettinare le bambole noi. Decisamente. Sì, noi pettiniamo le bambole. Prima stavo effettivamente abbastanza messo male. Meno di pungi pungi là. Bello lui. Che bel pelo lucido che c'ha. Sì, spazzolato c'è il pelo. Guarda là. Ecco. La collezione di pelo abbiamo. È andato la barbiere. Barbiera, scusatemi. La parrucchiera. La parrucchiera. L'hai imparruccato. Infiocchettino. Infiocchettato. Sì, sì. Lo stiamo preparando. Stiamo lavorando per voi. Aspettiamo se hai un ricetto attaccato. Mannaggia. Stai sul chivalà. C'ha un po' di naso aquilino. Ma è vero. È un bel pelo morbido. Proviamo un po' a farlo camminare? Così? Così. Se ci riusciamo, proviamo. Proviamo senza troppo... Vediamoci, amore. Vai. Oh, isse. Bravo. Guarda, zia Chiara. Che ti ha rimesse in piedi. Lui sta pensando... Scappo o non scappo? Bello. Bello. La coda? Sei riuscita? La coda. Eccola. Però la coda... Diciamo che sparisce la coda. La coda ce l'ha. C'è, c'è. Da qualche parte c'è. Diciamo che c'è. Questo cane è Italia. Guarda, è un cane italiano. Bianco, rosso e verde. E' un zettino italiano. E' un zettino italiano, ma ne è inglese. E' vero, è vero. Bellissima sta zampa bianca, è vero. Sai che non ci avevo fatto caso? Eh, io lo stavo guardando dal video. Proviamo, proviamo a vedere se cammini. Oddio. Oddio. Oh, ho fatto un passo. Dove devo andare? Proviamo a moringare. Vogliamo dargli una cosina buona, ci proviamo? Cosina buona? Zambiato, vuoi prendere quella, per favore? Non c'è il booster. Eh, proviamo il booster che magari gli può piacere di più. E tu? E tu? Ma che pelo lucido. Eh, ha visto? Ma pure lei ha un bel pelo. Lui è più grande, quindi si vede di più, perché è più masso. E' un mare. Stai scottando, però ci deve essere amore. È un amore. Sto spaventatissimo. No? La sorella è meno spaventata e non l'ha voluta. Aspetta, aspetta. L'ha leccato. Tipo gelato. Eh, è già un passo. Scusatemi, eh. Mettilo tra le zampe della sorella, vedi se lei guarda sola quando vicino la guarda. Oh, seguilo, seguilo. Guardi dove vuole andare. Prova, almeno cammina. Sembra un bradipo. No, esatto. È vero. Bravo, ce l'abbiamo fatta. Che bello. Il miracolo è successo. Chiara, approfitta per le foto insieme. E questo si chiamerà Lazzaro. Lazzaro, alzati e cammina. C'è riuscito. No, ma vero, vero. Eh, che bello. Che seduto. Almeno si è messo a lui. Eh, proprio per le foto, perché qua gliel'abbiamo fatte prima. Vai, Chiara. Zia Claudia, gli vuoi sistemare il fiocchettino? Ecco, ti ho messo paura. Bello lui. La piccola sta mangiando? Sì. Oh, che bello. Ti sto guardando invece. C'è la scuola sta mangiando. Mettiti vicino Anche perché è accovacciata sei meno minacciosa Diciamo la verità Che paura che fa zia Claudia Che omuna, mamma mia Però io direi che abbiamo fatto un grande passo E' bello così però nell'erba, lo sai? Però c'è proprio l'erba tutta davanti Guarda, troppo erba